questo spettacolo, ok? Ancora un applauso, grazie. Luigi Pastore, presidente, forza, fatemi sentire. Direzione artistica del Bravo, Clemente Menzione, music live. Adesso invece vi vado a presentare un'altra stessa. Siete pronti? Pronti? Voglio invogliare, voglio incidare. Un applauso per me? Via! Via! Ok, andiamo quindi a presentare magari faccio un po' di curriculum di quest'artista. Leggo un po' qualcosina, quello che ha fatto, perché è da definire veramente un artista a 360 gradi. Quindi ascoltatemi, prestatemi attenzione. Nasce a Caserta il 3 maggio del 1987. Sin da bambina, la musica è la sua compagna di vita. La sua vessatilità è una caratteristica che la distingue sin da subito. La svolta e l'esperienza più significativa, senza dubbio, è quella che si accinge a svolgere questi ultimi mesi, ossia la produzione e la promozione del suo primo singolo inedito, dal titolo Dentro, brano scritto da Francesco Garazzone, autore di canzoni per Mina, Fiorella Mannoia e altri nomi del panorama musicale nazionale. Realizzazione di videoclip curate da un noto regista italiano, come quello di Gigi D'Alessio, ha curato quello di Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, e tanti altri artisti nazionali. Ce l'abbiamo qui direttamente, però voglio ancora spendere qualche parolina, perché a breve la vedrete su TLC, vedete il suo videoclip su TLC, TLC Music, e la 4, tre emittenti regionali e in femmini tutto il mondo. Nella prima decada di settembre, la promozione del videoclip si espanderà in tutta l'Italia, con canali Italia Musica e Network Radiopolici Nazionali. Quindi deve essere un talento, no? Ce l'aspettiamo su di questo palco. Quindi, ma la vogliamo un po' acclamare, visto che comunque, beh, non è un artista, un talento che è nato oggi, ma, come dice il suo curriculum, il suo pezzo di storia, sia da bambina che si accinge a cantare, e ci è riuscita veramente, perfettamente, fin d'entrare appunto nel panorama nazionale. Va bene? Applausi per Carla Mangiazio! Buonasera a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Ai proprietari della pizzeria Mondo Pizza che mi seguono da quando ero piccola. Vi voglio bene, grazie. Grazie a tutti voi, buonasera.